In questo video andremo a vedere le prestazioni in gaming e in diversi applicativi di produttività di uno dei processori che reputo più interessanti nel mercato dell'usato, il Ryzen 7 3700X. Ciao ragazzi, ciao a tutti e bentornati qui sul canale del vostro Nintendo Ropazzo. Oggi siamo qui a parlare di questo processore che per chi di voi non lo sapesse è stata, lo è ancora per qualche giorno la mia CPU per gli ultimi 4 anni e mezzo circa, quasi 5 anni. Infatti questo Ryzen 7 3700X è stato proprio il processore che è rimasto nel mio computer per tutto questo tempo, è stata la CPU che mi ha fatto fare l'editing di tutti i video che avete visto. Ha un valore affettivo abbastanza alto e diciamo questo secondo me si merita con un video dedicato perché attualmente è anche una delle CPU secondo me più interessanti, lo andremo a vedere meglio dopo più avanti ovviamente sia nei test e poi anche nella discussione finale in base ecco anche ai prezzi a cui possiamo trovare questa CPU che vi spoilerò subito diciamo è intorno ai 100 euro o giù di lì. Ma prima di continuare due parole sul nostro sponsor di oggi, GVG Mall. Hai appena assemblato il tuo nuovo PC e installato Windows ma ti accorgi che la licenza non è attiva? Niente paura, lo sponsor di oggi è GVG Mall che offre chiave di Windows 10 e 11 a prezzi super competitivi. Col coupon esclusivo per il mio canale GGNT avrete uno sconto del 25% e potrete acquistare una chiave di attivazione di Windows 10 a solo 15 euro oppure una per Windows 11 a solo 20 euro pagando con Google Pay o Paypal. Tutti i link sono in descrizione. Prima di riprendere a parlare di questo Ryzen 7 3700X vi invito come sempre a iscrivervi qua sotto al canale attivando anche la campanella ovviamente se non lo avete già fatto così da non perdervi nessun video che uscirà sempre qui sul canale la domenica. Detto questo vi invito anche a iscrivervi ai miei due canali Telegram di offerte dove trovate le migliori offerte per quanto riguarda Amazon di hardware e videogiochi uno è un canale per il nuovo e l'altro è un canale per l'usato quindi ecco voi siete tranquillissimi perché siete su Amazon quindi garanzia e assistenza immediata e detto questo vi invito anche a seguirmi su Instagram e ora possiamo riprendere a parlare di questo processore. Uscito a luglio del 2019 insieme a buona parte della line up dei Ryzen della serie 3000 questo Ryzen 7 3700X si proponeva come diciamo la CPU di fascia alta medio alta di AMD insomma per quella volta e si andava a scontrare direttamente con gli Intel di nona generazione che erano presenti all'epoca e diciamo insomma facevano una buona concorrenza soprattutto con il modello di punta il i9 9900K che erano 8 core 16 thread mentre ecco magari gli i7 e gli i5 erano un po' meno interessanti per il fatto che non avevano l'hypertreading cioè erano un 6 core e un 8 core secchi cioè 6 core 6 thread 6 core 8 thread però ecco questo invece Ryzen 7 aveva insieme anche ai suoi fratelli diciamo così l'SMT cioè simultaneo smultitreading che è diciamo il modo di AMD per chiamare l'hypertreading e quindi insomma avevamo una CPU che aveva lo stesso identico core count dell'i9 9900K ma col fatto che costava decisamente meno perché questa CPU è stata presentata ed è uscita a un prezzo di lancio di 330 euro mentre l'i9 si aggirava intorno ai 500 e oltre ovviamente le prestazioni però non erano proprio uguali perché ovviamente in single core l'i9 spingeva abbastanza di più però se uno partiva con l'idea di prendere questa CPU intanto per risparmiare e poi per puntare sulla piattaforma M4 ha sicuramente investito bene i suoi soldi per il fatto che col seno del poi abbiamo visto insomma sono stati presentati i Ryzen 5000 sempre sulla stessa piattaforma M4 compatibili poi dopo che i fan hanno rotto un po' le scatole AMD anche con le vecchie schede madri e sono usciti infine i Ryzen 7 5800X3D adesso deve uscire il 5700X3D che sono CPU che vanno veramente molto ma molto di più rispetto a quel vecchio i9 9900K quindi ecco uno poteva spendere un po' meno all'inizio a avere presente le stesse prestazioni e poi poteva anche non cambiare piattaforma e upgradeare insomma uno di questi modelli usciti di recente senza spendere ecco un patrimonio quindi sicuramente ecco la scelta di Ryzen 7 3700X anche all'epoca era sicuramente una saggia scelta per parlarvi un po' meglio delle specifiche di questo processore vi ho detto essere un 8 core 16 thread con architettura Zen 2 cioè la seconda iterazione dell'architettura Ryzen diciamo oltre ecco la Zen Plus che era più una rivisitazione della prima in questo caso poi abbiamo 32 MB di cache di livello 3 che farò sicuramente comodo insomma anche qui avere un quantitativo di cache bello ampio per poi essere sfruttata in tutti i vari applicativi è sicuramente cosa buona e giusta e poi abbiamo una frequenza in boost che arriva fino a 4,3 GHz diciamo di base su qualche corno non arriva su tutti infatti ecco questa CPU diciamo il suo svantaggio si e può essere overclockata ecco non è questo lo svantaggio ma per il fatto che poi ecco con questo overclock non riusciamo a estrarre chissà quante prestazioni in più perché appunto anche nel mio caso con questo esemplare siamo arrivati a 4,25 GHz come frequenza massima a 4.3 su tutti i core non è stabile quindi figuratevi oltre ai 4.3 dovete avere veramente un sample molto molto buono quindi diciamo si AMD già quella volta aveva spremuto di base abbastanza bene queste CPU una cosa però interessante che il TDP è di solamente 65 Watt e insomma anche dopo averlo overclockato in sessioni di stress test comunque pesanti che vanno a sfruttare tutta la CPU abbiamo un consumo osservato che è intorno ai 100 massimo 120 Watt quindi diciamo poi anche questo si traduce in temperature che possono essere rette anche da dissipatori ad aria veramente da pochi spicci una curiosità che reputa interessante ancora all'epoca e che secondo me al giorno d'oggi ci può far riflettere è il fatto che un processore praticamente identico a questo è presente all'interno delle console di attuale generazione cioè PS5 e Xbox serie X perché queste console hanno all'interno una CPU AMD Zen 2 come architettura quindi la stessa identica di questo 3700X da 8 core 16 thread e con insomma frequenze che arrivano a 3,5-3,6 GHz al massimo mentre in questo caso ecco queste frequenze sono le frequenze di stock diciamo di base e quindi questo ci può far riflettere per il fatto che per quanto riguarda tutti i giochi che usciranno da qui nei prossimi 4-5 anni che saranno presenti sia su console che su PC possiamo stare tranquilli che una CPU del genere ce li farà giocare senza nessunissimo problema diciamo al minimo cioè almeno con la qualità che troviamo su console e anzi secondo me anche qualcosina in più in termini di framerate ma detto questo direi che ho parlato anche abbastanza della storia di questo processore e adesso direi di concentrarci più sull'aspetto tecnico e effettivamente delle prestazioni in sé e ecco prima di passare ai benchmark meri propri ci direi a fare due parole sulla piattaforma di test che è sostanzialmente il mio computer quindi con scheda madre Asus X370 Prime Pro quindi con BIOS aggiornato perché la scheda madre di base è una scheda madre del 2017 quindi veramente ormai vecchissima ma che regge senza problemi anche in overclock questa CPU e ovviamente con montate sopra 16 GB di RAM DDR4 3200 MHz CL16 della Kingston sulla HyperX RGB e oltre a questo abbiamo l'alimentatore che è un EVGA 850 G2 completamente modulare, ottima piattaforma interna e per finire abbiamo la GPU che è in questo caso la RTX 3090 EVGA 4TheWin 3 Ultra che diciamo ci servirà per creare il collo di bottiglia ovviamente i test verranno eseguiti tutti in Full HD così da vedere fin dove riesce a spingersi questo processore avendo avuto una scheda video anche più potente potremmo testarlo anche in 1440p ma diciamo la 3090 comunque non è una scheda sicuramente scarsa praticamente in tutti i giochi a parte ecco vi spoilerò già Anawake 2 diciamo lì la scheda video va effettivamente a essere sfruttata al massimo pur essendo in Full HD con il DLSS quindi davvero ecco il gioco dal punto di vista grafico è veramente un mattone però sì questo comunque è un buon segno perché vuol dire che la CPU tiene botta bene anche in quel caso detto questo direi che ora possiamo concentrarci sui benchmark partendo subito col primo benchmark abbiamo Cinebench R23 dove Ryzen 7 totalizza un punteggio in single core di 1237 punti e in multicore di 12858 punti passando poi alla nuova versione Cinebench 2024 abbiamo un punteggio in single core di 76 punti e multicore 687 punti questo perché insomma questa nuova versione ha abbassato diciamo tutti i punteggi effettivamente anche molto più pesante su 7zip benchmark abbiamo un punteggio in compressione di 69.775 punti e in decompressione abbiamo invece 96.803 punti quindi anche qui vediamo insomma un punteggio in linea con insomma altri 8 core di questa generazione Blender open data 4.0 punteggio combinato 183,48 punti per le varie scene e passando sempre a Blender ma la BMW demo tempo di rendering 168,86 secondi ovviamente insomma su Blender è meglio usare una GPU però comunque possiamo utilizzare anche il processore e insomma questi sono i risultati Blender classroom demo tempo di rendering sendo più pesante 382,71 secondi Corona 1.3 benchmark tempo di rendering 107 secondi anche qui insomma questo classico render che si utilizza come test e vediamo insomma che si comporta comunque molto bene questo Ryzen 7 V-Ray benchmark per la CPU punteggio 9360 v samples che poi ovviamente possiamo andare a confrontare con tutto il loro database quindi si fa molto comodo Geekbench nuova aggiunta tra l'altro nella suite di benchmark che di solito porto punteggio in single core 1741 punti e in multi core 8658 punti quindi così lo possiamo anche confrontare con diverse CPU Apple su invece Premiere Pro col Piuget System benchmark abbiamo un punteggio combinato di 906 punti detto questo direi di passare ai giochi come primo gioco abbiamo Control, DirectX 12, 1080p e setaggi di Digital Foundry abbiamo un average frame rate di 151 fps con un 1% low di 79,3 quindi comunque ecco pur essendo un titolo AAA riusciamo ecco a giocare ad altissimi frame rate considerando poi il titolo anche insomma che è abbastanza pesante anche lato CPU su Alan Wake 2 abbiamo qui purtroppo un collo di bottiglia per quanto riguarda la 3090 che anche in 1080p di LSS Quality arriva a essere sfruttata al 100% e quindi questi dati non sono indicativi delle vere prestazioni che riesce a tirare fuori questa CPU ma ecco comunque sono ottimi i risultati in ogni caso visto che riusciamo a giocare a questo gioco ecco 112 fps ma ripeto con una GPU più potente potremmo fare ancora di più su Death Stranding 1080p settaggi invece qui maxati è un titolo comunque abbastanza ottimizzato, abbastanza leggero per i giorni nostri comunque ecco riesce a sfruttare molto bene la CPU perché abbiamo un utilizzo superiore al 50% e abbiamo un average frame rate di 134 fps e un 1% low di 111 fps quindi davvero un'esperienza di gioco super godibile su Fortnite capitolo 5 DirectX 12 1080p settaggi medi abbiamo un average frame rate di 140 fps e un 1% low invece di 66,8 fps ricordo io testo sempre in modalità rissa squadre che è dove ci sono veramente tantissimi giocatori in un'area relativamente stretta quindi ecco per questo insomma magari sono risultati più bassi di quello che potevate aspettarvi però insomma in giocate normali ecco aspettate dei risultati più alti God of War 1080p settaggi alti abbiamo un average frame rate di 126 fps e un 1% low di 73 fps quindi anche qui altro titolo AAA che insomma riusciamo a giocare a più di 120 fps quindi un'ottima fluidità con questa CPU che veramente al giorno d'oggi ci costa circa 100 euro passando a Cyberpunk 2077 1080p e settaggi di hardware unboxed qui abbiamo la densità della popolazione al massimo e questo effettivamente causa al nostro povero Ryzen 7 diversi cali ogni tanto soprattutto in questa che probabilmente è l'area più pesante del gioco insomma diversi cali sotto i 60 fps però in ogni caso insomma è un'esperienza di gioco comunque super godibile che anche per un titolo così pesante riusciamo a mantenere sopra i 60 fps per la maggior parte del tempo Battlefield 5 da RTX 11 1080p settaggi alti 148 fps e un percentuale di 80 fps quindi anche qui insomma titolo ormai che ha qualche anno sulle spalle ma che riusciamo a giocare ad alti refresh rate senza nessunissimo problema ovviamente se accompagnati da una buona potenza grafica e passando al nuovo gioco abbiamo The Finals titolo che gira sull'Areal Engine 5 ed effettivamente sulla CPU è anche abbastanza pesante per essere un titolo e-sport abbiamo settaggi grafici medi e comunque non riusciamo a ottenere ecco un frame rate superiore ai 120 fps visto che di media viaggiamo intorno ai 113 fps ecco con un percentuale di 63,3 è un gioco effettivamente molto pesante vedete anche dal punto di vista grafico e diciamo anche dalla distruttibilità della mappa insomma è pesante il lato CPU e quindi ecco lo vedremo poi magari anche in altri test in futuro e ora un titolo ecco decisamente più leggero abbiamo Counter Strike 2 insomma il 1080p nativo perché ecco se andate a mettere settaggi medi preimpostati insomma vi mette l'FSR di base e qui invece è 1080p nativo facciamo ben più di 200 fps quindi ci possiamo ritenere soddisfatti detto questo direi di passare ora alle conclusioni di questo video e eccoci qui ragazzi dopo aver visto i benchmark che dire io sono comunque contento di vedere ancora al giorno d'oggi delle prestazioni che sono sicuramente interessanti per questa CPU sia in ambiti di produttività perché comunque è un 8 core 16 thread economico ormai perché dopo vediamo meglio il prezzo ma vi ho già detto costare intorno ai 100 euro e insomma le prestazioni poi in gaming sono ancora secondo me molto molto interessante sia nei titoli e sport perché ci permette di arrivare in praticamente tutti i titoli ecco forse l'unico è The Finals che è effettivamente un titolo su Real Engine 5 come motore grafico ed effettivamente molto pesante comunque arriviamo sui 120 fps, 115 di media circa le modalità più pesanti quindi comunque non è male e nei titoli AAA riusciamo praticamente in tutti anche su Cyberpunk anche che secondo me è uno di quelli più pesanti ovviamente con la densità della popolazione maxata diciamo riusciamo a mantenere sopra i 60 fps che ecco per giocare a questi titoli comunque graficamente intensi è sicuramente una soglia molto più che accettabile quindi che dire questa CPU ecco ve la consiglio e ve la raccomando diciamo se abbiamo visto qualche mese fa anche il Ryzen 5 3600 che effettivamente è un'altra CPU molto interessante secondo me ecco anche quella se siete con un budget ancora un pochino più tirato potreste considerarla visto che quella in quel caso si trova sui 60-70 euro diciamo forse per 30 euro in più se siete interessati a fare anche qualcos'altro volete ecco investire un po' di più sul processore sui 100 euro e a volte vi dico anche sui 90-80 euro il minimo a cui l'ho vista ecco si trova questo Ryzen 7 3700X CPU che veramente io mi posso ritenere più che soddisfatto di averlo utilizzato in tutti questi anni e che solamente adesso diciamo non tanto per esigenze particolari più che altro per interesse personale insomma per il fatto che ecco volevo cambiare sono andato a cambiarlo con un nuovo processore che vedremo sicuramente in un futuro video però ecco questa CPU secondo me può fare il caso vostro se siete insomma interessati a realizzare una build comunque relativamente economica ma anzi se proprio volete una piattaforma che magari vi faccia spendere poco per quanto riguarda scheda madre, memorie e CPU e magari volete andarla ad accoppiare comunque con una scheda build abbastanza potente perché abbiamo visto questo processore diciamo già in full hd è già abbastanza bene ma poi ovviamente se lo andate a sfruttare magari in 1440p posso pensare con una 4070 anche 4070 super andate veramente a sfruttarlo senza problemi e diciamo anche la scheda video ecco non vi farà da collo di bottiglia detto questo io spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile quindi il verdetto è completamente positivo e quindi sì vi consiglio di acquistarlo se avete questo interesse nel 2024 e anche ecco di preferirlo secondo me rispetto agli XE o magari su piattaforma X99 per il fatto che qui se ho detto discorso del socket M4 volendo possiamo andarlo ad upgradeare fino a modelli da 16 core come Ryzen 9 5950X o 3950X oppure possiamo ecco andare a mettere un modello di Ryzen 7 il 5800X 3D che ci permette di arrivare a livelli di performance ancora superiori per quanto riguarda il gaming vi consiglio due video che se non avete visto vi invito a guardare il primo ecco è quello del Ryzen 5 3600X che abbiamo visto appunto qualche mese fa e il secondo è quello che abbiamo visto sulla RTX 4070 che infatti nel suo video la vota è stata proprio con questo Ryzen 7 3700X detto questo è veramente tutto io come sempre vi ringrazio per aver visto questo video e noi come sempre ci becchiamo alla prossima ciao a tutti ragazzi ciao a tutti